E' uno straordinario traguardo. Era una sfida quella di riuscire a dare a questo castello una finalità culturale e turistica, una sfida che ha visto in gioco diverse prospettive e diverse idee. Siamo riusciti a raggiungere nei tempi corretti una soluzione che a nostro avviso darà a Fossano l'occasione di valorizzare il giacimento di libri, il lascito Vallauri che è davvero una ricchezza della città e allo stesso modo il magnifico castello con la vista sui territori e sulla città. Per cui contiamo che tutto questo possa propiziare il turismo locale e il turismo allargato. Grazie. Paolo Cortese.